Siamo arrivati Ciao Questo sarà un vlog di salute Ciao ragazzi Mi sento male Sì, non è così Ma non è così Ma è un ragazzo Ma è un ragazzo C'è un passaggio per stare in casa Guardi, guarda, mi metto sopra la propria portata Ma non rinquadri mai Non c'è un passaggio per la propria portata Questa si è una cosa che sarà La scena è inizia Prendersi Questa è inizia La scena 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 è inizia Grazie a tutti. Non c'è bisogno che metta la musica, c'è già il sottofondo. E ce la faccio un po' a patata io. Ciao Elie. Ciao Mary. Stiamo aspettando che scatti il verde. Andrea. Grazie a tutti. Marco cosa fa? Si ripara? Guarda lì, guarda lì! Noi, noi! Ho capito! Non ho capito, non ho capito. Non ho capito, non ho capito. Ciao! Non ho capito. Io per me sono l'amore. E io entro là, non ho capito, perché se lo dobbiamo uscire, vi è un po' di più, che è il nostro hotel, comunque non ho capito. Siete anche il nostro auto. Vedi, quello lì è il mondo, centro commerciale, qua lì ci sono le fontane, ah questo è tutto centro commerciale, sì, sì, facciamoci un video selfie, ciao, ciao, sì, infatti là possono farvi un altro, scusa, sì, eh ma guarda che quello là mega, lo fanno tipo da quelle parti là, quello che abbiamo visto, ah là è la piramide che siamo fatti con la macchina laggiù si lascia all'aeroporto, come nei video selfie in cui costruisci le cose che ci sono negli spazi buoni, ci faccia farti video selfie così, nel video però rimane qui, selfie 2.0 fai lo specchio, e facciamoci una foto del video insieme, ok, vai, ciao da sei ciao da sei che sbalazzamento, che l'ho successo? no, andiamo a tutti, devo rai сделать vieni qua, vedi qua le mettono, volevo, non ti giravi vieni qua, vieni qua, io perché veniva libero e vieni qua in arrivo! Noi ci siamo impegnati a matchare tutto e... Viglielo se la puoi avere verde, la vedola. Come lo vuoi? Ah, bello! Ah, wow! Mi sa che lo fa più diverso. Ah, tu stai bene? Ti mette anche le cordine, vedi? Dai, vai! Ah, anche te, eh? Dai, me lo deve fare. Guarda me. Sì, tieni. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sì, sì, sì. va bene, chi è questo? ma è bene? wow mi piace, ragazzi questa parte non ci sarà vai, vai wow perfetto, proprio lungo giusto wow 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 montagna russa wow come ti pregociate metri wow 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 ok vediamo la foto ok vediamo la foto vediamo la foto vediamo la foto poi vediamo la foto vediamo la foto vediamo la foto vediamo la foto Grazie a tutti. 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 Yeah, we will leave the shoes guys after we will go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenta, abbiamo ripreso il tuo inciampo, quindi... Io voglio vedere le volte che vedevi tu un'ora di miele. Ah, spesso. Non cadevo, facevo sempre così anch'io. Ha detto che è la giù in fondo, a sinistra. Quattro di... Ma, facciamo un ritrovo di sandali. Ma scusate, ieri mi sono messa gli scarpini al merdone, ma... ma... ma ci possiamo sbagliare la? Allora, ma ci possiamo sbagliare la? Io sto la, vi aspetto. Allora... Allora... All... 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 Ma te l'ho detto? Gliel'ho chiesto ieri all'autista. Allora, mi gliel'hai chiesto? Ah sì, forse perché te dormivi all'autista di ieri. Vuol dire tipo un simbolo... È un tipo sun. Vuol dire... Simbolo di rispetto per dire il nome. Tipo sun. Buongiorno. Sto morendo. Ho fatto la penichella dopo pranzo. Madonna mia, c'ho tutta la musica. Ora puoi farlo. Grazie. Questo ringraziamento. Nooo. Ultima cena. Ultima cena. Ultima cena. Ultima cena. Non passiamo di là dalla sabbia. Non so come se vuoi niente. In pausa... Cosa è un piccolocoloolo? Non se vuoi legati a casa? Non mi sembra il caso... Guarda! 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 Sì, K dell'Indiana! K dell'Indiana! Non vuoi dire K dell'Indiana? K, K! A cosa giochi? Wow! Cosa prendi? Un'abbia metà torta a notarli. Cosa prendi? Cosa prendi? Cosa prendi? Diserto. No, io ho gelato. Tu? Non lo so. Tu? Gelato. Anche io ho stracciatelle. Anche io ho stracciatelle. No! Non puoi fare stracciatelle quando... E allora fai il frutto. Lei la c'è tre volte. L'unica decisa, la stamattina. Sara è la più buona di Sara. Sempre. Solo per i massimi. Marco il più alto di tutti. Sì. Ah, guarda, ci devi mettere a te il coso per affogarlo. Te l'ho avuto a fogo, sì però te lo devi fare. Sì, però me lo devo fare. L'ha affogato però se lo deve fare. No, ha affogato. Attenta a non affogarti. Stai a fugarti. Era da queste parti il negozio del Natale. Non l'ho mica visto il negozio del Natale. Mi hai visto due qua dentro. No, non l'ho visto. Lo mostri. Allora, c'è la porta. Leggi le notizie. Primo round. Tu? Primo round? Secondo round? Ultimo round. Lei, pranzo di Natale. Marco, disapper. Pino, Pino del palazzo. Chi è che ha suonato? Sorry! Ma che stiamo parlando? Aline parla da sola. Sara Stan. Tu? Miau. No one is following the rules. Va bene, con un po' delle acque. È una superstar. Ci sono delle cascate? No, non so. Sei vero. E fai le risa a tutti sul mio video, però no. Dai, fai le risa a tutti nel video. Chi è? Busquerados? Busquerados? Forse. Ho trovato qualcosa? Sì. A 16, a 16. Buoni, per chi sono? Per me? Me ne mangio da sola. Veramente? No, per casa. Per casa nostra? Mia. Come è tua? Ci devi mangiare ancora il caffè stasera? Scusa, posso svegliarmi? No. Grazie. Mi piace a casa per i canistrati. Però, pare che ce l'ha detto che non mi chiedeva. Con lo scanto, non mi piace così. I don't have words. I don't have words. Non ho parole. Deve stare in tema con la tua madre. Deve stare in tema, eh. Ho scritto. Deve stare in tema con la tua madre. Sì. 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 Più interactive. Più Cesare. Questo è più bello, vero? Questo è più figlio. Più HD. Più HD. Più HD. Io mi guardo a casa. Cosa? Questa è la sezione apposta. Svegliate in casa di cibo. No, le ho bisogno. Io metto solo questo. No. Perché mi devi fregare la presa? Ehi, a me non mi aspetto. Sì. Così. Sì. Si. Grazie a tutti.